Zucchine trifolate. Per prima cosa sciacquo le zucchine sotto acqua corrente fredda, poi le asciugo bene, tolgo le estremità, le taglio a pezzetti e le passo in un contenitore. A questo punto metto l'olio e mescolo bene affinché l'intera superficie di tutte le zucchine sia toccata dall'olio. Ora schiaccio degli spicchi d'aglio in camicia, li unisco alle zucchine e mescolo, poi accendo la fiamma sotto una padella antiaderente e quando sarà rovente verso le zucchine facendo sì che tutte tocchino il fondo e mescolando, meglio farle saltare per non romperle, le faccio cuocere per 7-8 minuti a fiamma molto alta, poi spengo la fiamma, regolo di sale, mescolo, copro con il coperchio e a fiamma spenta farci riposare 6-7 minuti per farle cuocere meglio dentro. Ed eccole qui, sono buonissime! Buon appetito! Passa al tonno con zucchine e pomodorini. Per prima cosa taglio le zucchine, poi i pomodorini, le cipolle, metto l'olio in padella, aggiungo le acciughe sotto l'olio, i capperi, schiaccio un po' acciughe e capperi, poi metto le zucchine e a fiamma alta faccio cuocere 4-5 minuti. A questo punto aggiungo le cipolle, quando zucchine e cipolle saranno dorate ne passo una metà nel bicchiere del mini pimer, aggiungo un po' d'acqua bollente, frullo e tengo da parte. Ora unisco i pomodorini alle zucchine non frullate, regolo di sale, copro e faccio cuocere 10-12 minuti a fiamma bassa. Nel frattempo salo l'acqua, metto a cuocere la pasta, poi un minuto prima della fine della cottura, la trasferisco in padella, aggiungo la crema di zucchine e un po' d'acqua di cottura e mescolando faccio finire di cuocere. A fine cottura spengo la fiamma, metto il tonno, il peperoncino, ultima mescolata e buon appetito! Zucchine grigliate! Per prima cosa metto l'olio in una padellina, poi l'aglio ed una volta dorato spengo e metto le foglioline di menta, il basilico, il peperoncino e lascio raffreddare. Nel frattempo tolgo le estremità alle zucchine e le taglio a fettine abbastanza sottili, poi le dispongo sulla piastra rovente e le faccio cuocere 3-4 minuti per lato, poi le tolgo ed una volta grigliate tutte le metto in un piatto da portata e faccio più strati mettendo il condimento filtrato ed il sale. Ed eccole qui, super gustose! Buon appetito! Pasta, zucchine, filadelfia e pancetta si fa in 15 minuti ed è una delizia assoluta, fatela con me! Iniziamo! Per prima cosa taglio la cipolla, poi grattugio le zucchine dopo averle lavate, asciugate e private delle estremità, metto l'olio in padella, aggiungo la cipolla e dopo un minuto metto le zucchine, regolo di sale e faccio cuocere per 10-12 minuti a fiamma medio alta, poi salo l'acqua, metto a cuocere la pasta, in una padellina metto la pancetta e la faccio cuocere a fiamma alta finché sarà brustolita. Quando le zucchine saranno pronte aggiungo il formaggio spalmabile, mescolo aggiungendo un po' di acqua di cottura della pasta, trasferisco la pasta al dente e a fiamma spenta mescolo in modo da far amalgamare bene il tutto, poi aggiungo la pancetta croccante ed eccola qui che bella e squisita!